Nell'ambito del piano di rafforzamento del dispositivo di sicurezza economico-finanziaria nella stagione estiva, i finanzieri del Comando Provinciale di Salerno, attraverso l'operazione denominata Bed & Black, hanno fatto emergere una rilevante evasione fiscale stimata a in oltre un milione di euro perpetrata dai proprietari di numerose strutture ricettive extraalberghiere ubicate nella costiera cilentana. L'operazione Bed & Black nasce da un'analisi effettuata dai finanzieri della compagnia di Agropoli incrociando i dati rilevati dagli elenchi comunali delle strutture ricettive extraalberghiere abilitate ad operare sul territorio con le informazioni presenti sulle principali piattaforme web che pubblicizzano offerte di case vacanze e bed and breakfast a destinazione turistica. Tale attività investigativa ha consentito di accertare che i proprietari di ben 65 appartamenti e tre bed and breakfast non erano in possesso delle autorizzazioni comunali previste dalla normativa regionale per l'esercizio dell'attività di struttura ricettiva extraalberghiera o in alcuni casi avevano un permesso non conforme all'attività effettivamente esercitata. In particolare le Fiamme Gialle hanno constatato che due fratelli originari di Agropoli hanno sottratto all'erario circa 270 mila euro derivanti dalla locazione turistica di 29 mini appartamenti ubicati in località di Cinella, di Capaccio Pestum, mentre due nuclei familiari di Santa Maria di Castellabate, proprietari di ben 22 appartamenti locati per il periodo estivo, hanno evaso redditi di circa 600 mila euro. Altri due gestori di bed and breakfast situati nel borgo antico del comune di Agropoli affittavano completamente in nero le camere delle proprie strutture, servendosi anche dei servizi e della pubblicità offerta da una nota piattaforma web dalla quale ricevevano regolare fattura per l'attività di intermediazione. Il rinvenimento di tali fatture ha consentito di accertare che ogni singola camera arrivava a fratturare anche 4 mila euro all'anno. Il contrasto all'economia sommersa rappresenta una linea d'azione fondamentale tra le funzioni di pulizia economica finanziaria della Guardia di Finanza, sia per il recupero dei tributi sottratti al fisco, sia perché consente di arginare la diffusione dell'illegalità e dell'abusivismo nel sistema economico, a tutela delle imprese che operano nel rispetto della legge e il regime di concorrenza leale.